buongiorno a tutti mi chiamo dimitri sono affiliate manager in admitad quest'oggi vorrei farvi l'introduzione in una serie di video in cui spiegherò come fare la registrazione e come lavorare con la nostra piattaforma e vi svelerò alcuni secreti della nostra affiliazione cos'è admitad admitad è una piattaforma di affiliazione che si basa sul modello cpa cioè costo per acquisizione è stata fondata il primo ottobre del 2009 e negli anni è diventato una delle più grandi aziende dell'affiliate marketing oggi admitad unisce migliaia di brand e centinaia e migliaia di publisher in tutto il mondo per noi la cooperazione non è semplice business admitad stabilisce relazioni a lungo termine con i suoi partner disponiamo una vasta esperienza nell'ambito dell'affiliate marketing e siamo pronti ad aiutare i nostri affiliati a realizzare e a monetizzare i loro progetti il nostro team di sviluppatori esperti e account manager professionisti siamo sempre alla ricerca dei nuovi modi per far crescere le campagne pubblicitarie come registrarsi in admitad adesso vi spiegherò come registrarsi in admitad innanzitutto vorrei sottolineare che la registrazione è sempre gratuita in admitad per i nostri publisher incominciamo con andare sul sito admitad.com in alto a destra bisogna premere sul pulsante registrati come publisher di seguito inserire nome cognome indirizzo mail valido scegliere un nome utente scegliere una password consiglio vivamente di leggere il regolamento per i publisher e l'informativa sua privacy quindi dopo aver letto bisogna accettarla ed è opzionale accettare le notifiche via mail le notifiche sono su programmi di affiliazione a cupone offerte finanze e notizie di admitad in generale dopodiché basta premere su registrati in seguito compare la finestra dove vuoi guadagnare si può scegliere una o più opzioni per esempio social network sito web acquisto del traffico messenger servizi web programmi e applicazioni noi in questo caso scegliamo acquisto del traffico da dove proverà per esempio questo acquisto del traffico google ads dobbiamo dare un nome a questo sistema per esempio ed eccoci nella nostra dashboard la registrazione è completata nel prossimo video spiegherò come utilizzare l'account come attivare i nostri programmi e le modalità delle promozioni spiegherò come usare gli strumenti e a cosa servire i nostri programmi e le modalità delle promozioni servono le statistiche ed altri piccoli segreti che aiuteranno a lavorare più operativamente e a guadagnare di più con admitad grazie per la vostra attenzione iscrivetevi al nostro canale e seguite i nostri video alla prossima Grazie a tutti